Le aziende non sono della moda, l'industria italiana chiede al governo di creare le condizioni per costruire sempre più una competitività delle imprese italiane. Lo ha detto lei, l'export è determinante al nostro paese, non abbiamo materie prime e fonti energetiche, esportiamo 550 miliardi all'anno di cui 450 vengono dall'industria. Avere una dotazione infrastrutturale che renda competitive queste imprese anche al di fuori dei propri cancelli e permetta di avere una idea di paese centrale tra Europa e Mediterraneo e determinante per il paese e nell'interesse del paese. Quando ancora la manovra era una bozza, voi avete fatto una richiesta ben precisa al governo, adesso che è diventata più concreta e se ne sa molto di più, quali sono le vostre opinioni? L'opinione è che è una manovra cosiddetta prociclica e con il rallentamento globale dell'economia potrebbe non avere la crescita auspicata dal governo e quindi occorrono elementi compensativi, lo abbiamo detto da tempo, per esempio a partire dall'apertura dei cantieri piccoli, medi e grandi che genererebbero occupazione e crescita.